Nessun inciucio con le opposizioni, c'è il confronto che aveva auspicato. Il presidente della regione Crocetta commenta così, a margine dei lavori dell'Ars sulla finanziaria, l'intesa raggiunta su un pacchetto di norme condivise che permetterà di condurre in porto la manovra e che ha già dato i primi risultati. I lavori però proseguono a rilento e proprio per imprimere un colpo di acceleratore il presidente dell'Ars Ardizzone ha convocato questa mattina, prima della seduta, i capigruppo. I lavori di ieri si erano chiusi con la contestata norma sui forestali che nei giorni scorsi aveva creato frizioni tra il presidente della regione Crocetta e il suo partito, il PD. Il governo alla fine si è arreso e ha così riscritto il testo dopo essersi confrontato con i sindacati. Ai forestali andranno 180 milioni di euro con un taglio di 50 milioni rispetto all'anno scorso. Vengono bloccati per due anni gli aumenti contrattuali mentre arriva il via libera al turnover partendo dalle fasce più deboli. Per quanto riguarda i rimborsi chilometrici per raggiungere il posto di lavoro al centro di forti polemiche arrivano le restrizioni. La distanza non potrà essere superiore ai 15 chilometri. Con un'altra norma infine sono stati tagliati 100 milioni di euro alla spesa per i beni e servizi nella sanità, 70 milioni in meno al settore farmaceutico e 30 recuperati da altri comparti. Le risorse comunque rimarranno all'interno del fondo sanitario e saranno destinati all'assistenza sociosanitaria. Grazie. Grazie. Grazie.